Perché abbiamo questi pensieri? Non sono capace, non valgo abbastanza, fallirò. Perché crediamo a questi pensieri? Come possiamo liberarcene? Benvenuto su Ciuffo all'Infermieristica, il canale con trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. Non sono capace, non valgo abbastanza, fallirò. Questi pensieri sono come bolle che pian piano affiorano dalla pozza profonda delle emozioni. Fanno male, danno ansia, tristezza. La maggior parte delle persone li subisce passivamente per tutta la vita ed è appena cosciente della loro esistenza e del terribile impatto che hanno sul benessere psicologico. Per affacciarsi alla relazione d'aiuto in tirocinio, credo che sia fondamentale avere un buon approccio per gestire questi pensieri e quindi le proprie emozioni. Gest Vicky Zeta, che è un frequentatore di lunga data di questo canale, mi ha scritto Da persona timida che sono, quando entro in reparto e indosso la divisa, mi sento sempre un tantino più sicuro di me. Non appena mi trovo in reparto, mi sento più forte, come se tutto quel peso mi venisse facile da gestire. La voglia di imparare, la passione, la gentilezza ed educazione verso gli altri, nonché l'umiltà, però, possono aiutare molto. Molte esperienze del tirocinio sono l'angolo oscuro dove nessuno vuole guardare. E invece noi dobbiamo guardare, e dobbiamo guardare molto bene. Se riesci ad accettare quello che vedrai come parte dell'esperienza umana, Beh, hai fatto un bel passo, qualcosa che ti servirà per tutta la vita, e non solo professionale. Avrai già sentito qualcuno che ti dice Non reprimere l'emozione, riconoscila, vivila, guardala scorrere via. Sì, eh, ok, ma come si fa? Immagina un limone. Annusa la buccia. Ora, prendi un coltello e taglialo in quattro spicchi. Prendi uno spicchio e spremilo in bocca. Senti il succo che stimola le tue papille gustative. Ti è aumentata la salivazione? Perché a me sì, solo dicendo queste parole. Questo è il potere che all'immaginazione si può applicare sui pensieri, usando immagini che per noi sono significative. È qualcosa di estremamente personale che ognuno può applicare solo su se stesso. Posso farti degli esempi che puoi provare ad applicare la prossima volta che qualche esperienza di tirocinio colpisce un po' troppo forte. La prossima volta che un pensiero affiora dalla pozza, riconoscilo. Sto avendo il pensiero di essere un incapace. Poi, cantalo mentalmente con la base di tanti auguri a te. Happy Birthday Qualunque effetto quel pensiero ti faceva prima, ti assicuro che non lo prenderai più seriamente. Oppure, chiudi gli occhi e immagina lo stesso pensiero come la tagline di un poster cinematografico. Ora, dai un titolo ironico al film. Chi sono i protagonisti? Ci sono anche loro nel poster. Ancora, dopo aver riconosciuto il pensiero, ripetilo così come è affiorato, con la voce di Pippo. Adio, sono un fallimento. Ok, la mia imitazione di Pippo non è buona quanto credevo. Adesso ti racconto la tecnica che ho adottato io. Il timore di fallire è un pensiero ampio che si adatta a seconda della situazione che viviamo. Può manifestarsi come fallirò l'esame, fallirò l'università, fallirò nella vita, eccetera. Io ho un pensiero speciale riguardo al fallimento. Come conclusione al video te lo confesso e parlo anche di quale tecnica ho adottato per rimetterlo da dove è uscito. Se lo analizziamo razionalmente, il pensiero del fallimento è facile da liquidare. Può essere che falliamo ogni tanto, perché no? Ma fallire in ogni cosa è irrealistico. Bisogna davvero applicarsi attivamente per fallire ogni cosa. E poi sappiamo di poter essere efficaci e sappiamo anche di poter rivoltare i fallimenti a nostro vantaggio. Da questo punto di vista, fallire non ci spaventa. Pensiero liquidato. E sto sbagliando, perché si ripresenterà in futuro in un momento di particolare fragilità. L'errore è questo. Se consideriamo questo pensiero come una verità da confutare, da dimostrare quindi che è sbagliato, stiamo considerando questo pensiero come una verità valida di considerazione. I pensieri non sono necessariamente verità, non sono saggezza, non sono ordini. I pensieri, per quanto disturbanti, non sono una minaccia da debellare. I pensieri sono suoni, storie, pezzi di parole, di discorsi. Potrebbero offrire validi spunti su come indirizzare la nostra vita, per cui vale la pena guardarli e decidere autonomamente. Come si fa a prendere un pensiero e guardarlo come esterno da noi? Ognuno ha il suo metodo. Trovi molti spunti su La trappola della felicità, di Russ Harris. Sempre in descrizione ti ho messo dei link a dei libri che mi hanno aiutato molto nei primi tirocini. Prova a leggerli, se ti va. Fammi sapere anche se c'è qualche libro che ti ha aiutato particolarmente, così posso aggiungerlo alla mia descrizione. Voglio farti vedere questo pezzettino di video che ho girato un po' di tempo fa, perché è ancora piuttosto attuale. In uno dei tirocini ero assegnato a RSA, che aveva anche un hospice annesso. Ero contento che mi avessero assegnato a quei reparti, anche se era un po' lontano da dove abito e non sono un grande fan della sveglia alle 5. Comunque, la vedevo un po' come una prova del 9. Un tirocini ho fatto in altri reparti di medicina o di chirurgia, capita di vedere molte tragedie che però si risolvono in storie a lieto fine. In RSA, invece, difficilmente le storie finiscono bene. Tanto meno in hospice, che è il reparto dei terminali. Se riesco a vivere serenamente con queste tragedie, se riesco a guardare nell'abisso senza che l'abisso guardi più di tanto dentro di me, poi tutto il resto sarà una passeggiata. Ecco, apro una piccola parentesi perché mi viene in mente una cosa. Capitava molto spesso in quel periodo che conoscenti mi fermassero per strada e mi chiedessero «Allora, come va il tirocinio?» E io rispondevo «Beh, dai, insomma, mi alzo la mattina, faccio i prelievi, faccio le notti». Perché, in realtà, cosa posso raccontare? Delle ferite terrificanti? Della morte? Dell'odore di cacca ovunque? Sempre e comunque? Nessuno vuole sentirsi raccontare queste cose. Cioè, cosa si aspettano che io risponda? Ogni tanto mi capita che una delle storie terribili a cui ho assistito mi ritorni in mente. Così, tutta ad un colpo. Non è come un flashback da film horror, un jump scare, qualcosa tipo «HUAH!» È più come se la mente volesse ripassare il vissuto. La cosa non mi ha dato pena finché non mi sono accorto che iniziava ad avere degli influssi su come vivevo, percepivo i fatti della giornata. Mi metteva come un filtro di negatività davanti agli occhi. Ora rivelo qual è il mio pensiero ricorrente e il metodo che ho adottato. Intanto, se finora ti è piaciuto questo video, fammelo sapere con un pollicione in su. E se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e clicca anche sulla campanella per non rischiare di perderti il prossimo video. In tirocini ho visto molte persone in agonia e nessuna di queste è morta serenamente. Il pensiero di un pacifico abbandono la vita è rassicurante, ma non è parte della mia esperienza. Preferisco raccontare storie divertenti. La prima volta che ho fatto un prelievo, messo su un CVP, un catetere, eccetera. In questo canale di sofferenza, di morte, non parlo volentieri. Anche perché alle esperienze che ho accumulato si accompagna un senso di incapacità, di inadeguatezza, di fallimento. Mi capita spesso di avere un pensiero dietro la testa ogni volta che comincio qualcosa di nuovo, oppure sono insicuro riguardo a qualcosa che sto facendo. Le cose andranno male, inevitabilmente. Per guardare questo pensiero, l'ho scritto e l'ho associato ad un quadro. Lo guardo ogni giorno, quando entro in camera. E mi fa sorridere. Lo trovo ingenuo, approssimativo, ridicolo. Ora non lo prendo più in considerazione. Così come non prendo più in considerazione il fallimento come un'inevitabile minaccia. E non mi spaventano i ricordi delle morti che ho vissuto in ospedale e tutta la sofferenza che vi ci si accompagna. Qui a sinistra ti ho messo un video e una playlist che potrebbero interessarti, nonché il mio libro su infermieristica. È gratis, è un ebook in pdf. La tua opinione mi è spesso molto utile. Io sono Ciuffo. Ciao.